Se stai avendo problemi sugli ultimi aggiornamenti su Windows 11 24 h2 è possibile installarli manualmente grazie anche al catalogo di Microsoft Update cercando così l'aggiornamento che devi installare sul tuo computer ovviamente è quello che devo installare il KB5044284 del 8 ottobre clicco direttamente su Download i file devono finire come .msu per installare così gli aggiornamenti su Windows 11 come puoi vedere se vado un attimo su Windows Update questo è l'aggiornamento che ho installato il KB5044284 il 10 ottobre e ultimamente non stanno uscendo aggiornamenti su Windows 11 quindi se stai riscontrando questi problemi puoi semplicemente andare su questo pc disco locale C vai su Windows scendi fino a giù fino a trovare così la cartella del software distribution per eliminare così quella cartella eccola qua Download ed eccoli qua cancetti così la cartella Download per riscaricarli di nuovo da capo su Windows Update e provare a reinstallarli se non dovesse bastare puoi semplicemente andare sui servizi scendi fino a giù fino a trovare Windows Update ovviamente quando sempre questi problemi cerco di risolverli in questo modo generale tipo di avvio metti manuale lo stato del servizio di Windows Update è in esecuzione quindi puoi interrompere il servizio e avviarlo di nuovo in tipo di avvio manuale connessione ripristino primo tentativo metti riavvia il servizio tutti e tre e fai ok se non dovesse bastare in descrizione ti ho lasciato così un comando per arrestare del tutto Windows Update riavviarlo e poi fare un ripristino tutto su PowerShell eccolo qua Windows PowerShell esegui come amministratore facciamo sì ed eccolo qua inserisci così il comando facciamo anche una bella pulizia mettiamo prima questo comando qua e facciamo invio una volta usato poi lo strumento gestione e manutenzione immagini andremo a inserire così il comando sul CMD quindi basta andare sul CMD prompt dei comandi esegui come amministratore tu lascia fare così questa pulizia qua fallo arrivare al 100% ci vogliono tra i 2-3 minuti quindi una volta fatto devi scrivere qua sopra exit esce exit di color verde e poi ti chiude il pannello copiamo così questo comando che ti ho lasciato in descrizione facciamo CTRL V ed eccolo qua servizio Windows Update in fase di avvio servizio richiesto già avviato e poi scrivi qua sopra exit per finire puoi aggiustare i file danneggiati su tuo computer grazie anche al comando CMD prompt dei comandi scrivi qua sopra sfc spazio slash scanno per fare una verifica e ripristinare tutti i file danneggiati sul tuo sistema aspetti la verifica e poi una volta fatto tutti questi comandi ti consiglio di riavviare il sistema e riprovare a vedere se ci sono aggiornamenti a scaricare e installare senza nessun problema per ora gli ultimi aggiornamenti li ho installati tutti la versione 24h2 per ora sta andando bene ho riscontrato alcuni bug o qualche problema ma la Microsoft sta cercando di risolvere quindi gli aggiornamenti sono questi quindi grazie a tutti per questa visione se hai problemi puoi commentare sotto al video ciao